E allarme siccità in Italia lo dice la Col di Retti partendo dagli ultimi rilievi sul fiume Poil, cui livelli di 2,56 metri sotto lo zero idrometrico. Frutto di una primavera senza piogge lungo tutto lo stivale, la seconda più calda e la quarta più asciutta dal 1800. La situazione del grande fiume mette a rischio le coltivazioni di tutta la pianura padana, avverte l'Associazione. In Emilia Romagna la siccità potrebbe far saltare più di un terzo della produzione agroalimentare. Secondo Col di Retti sono necessari interventi d'urgenza per rendere subito disponibile l'acqua per i campi. Sul territorio regionale è piovuti in media il 50% in meno della norma, con gravi crisi idriche soprattutto nelle province del nord-ovest e lì. Sono concentrate allevamenti di parmigiano reggiano e allevamenti di suini, acqua che poi serve per coltivare gran turca e foraggio e nutrire più di 650.000 bovini che producono latte per i principali formaggi doppi italiani. In forte crisi anche la coltivazione di pomodori che riforniscono alle grandi industrie conserviere. Col di Retti sostiene che per continuare a mantenere un'agricoltura di qualità sono necessari interventi strutturali. La proposta è di creare bacini aziendali e utilizzare le ex cave, le casse di espansione dei fiumi, per raccogliere acqua.